Sì, dove stai andando? Non lo so. Allora fermati. Non funzionerà. E chi lo dice? La mia voce interna. Mandala a fanculo, Nicole. Io ti amo. Dove sei? Sono qui. Non ti vedo. Perché non stai guardando dalla parte giusta. Sei bellissima. Sei lontano. Guarda solo i miei occhi. Non ti vedo, Nicole. Io te. Nicole, è vero che non esiste una donna che non possa essere conquistata Al prossimo episodio